E rieccoci nuovamente insieme, oggi mi trovo in una delle più belle, più grandi concessionarie di Torino, una delle più eleganti. Sono esattamente in strada 7344A a Torino in LDCar e rivedo con grande piacere il volto ufficiale, la mia guida. Dennis, ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Ricordiamo ai nostri amici qual è il vostro prodotto e quanto prodotto c'è soprattutto. Certo, nuovi arrivi questa settimana qua e nei prossimi mesi. Oltre 300 autovetture multimarche per voi. Non ci credete? Seguite con attenzione la puntata. Incominciamo da Alfa Romeo Stelvio, 210 cavalli, blu misano, disponibili di altri colori, tutti in pronta consegna a partire da 529 euro al mese. E passiamo in casa Audi, scopriamo questo bellissimo Q3 S-Line S-Tronic, naturalmente full optional, con pochissimi chilometri, vettura aziendale del maggio 2021, 15.000 soltanto i chilometri percorsi, vostra a partire da 449 euro al mese. Restiamo sempre in casa Audi, qui da LDCar tantissima vasta scelta di Audi chilometro zero aziendale usato fresco. Parliamo di questa Q2, nuovo restyling tua a partire da 299 euro al mese. Usato fresco, freschissimo, in ottime condizioni, questa Audi A1 S-Line Bostra, a partire da 259 euro al mese. E passiamo in casa madre Jeep, introvabile, Compass, nuovo restyling, versione S, full optional, diversi colori, tua a partire da 349 euro al mese. Il mio occhio cade naturalmente su Jeep Renegade, soprattutto per il colore e per il tetto apribile. splendida, Bostra, con rate piccole piccole, a partire da 199 euro al mese. Qui da LDCar, tutte le Jeep che desiderate, in pronta consegna naturalmente. Siete pronti per le vacanze? La vettura c'è, una Fiat tipo Station Wagon Life, a partire da 189 euro al mese, solo da LDCar. Ristiamo in casa madre Fiat, 500X Sport, in pronta consegna, tutte chilometro zero, diversi colori e alimentazioni, diesel, benzina, ibride, tua a partire da 199 euro al mese. Fiat 500L Sport, pronte per le vacanze, benzina, chilometro zero, tua a partire da 189 euro al mese. Incredibile! Qui all'LDCar, le Lancia Y, sono tutte in pronta consegna, ibride, GPL, diversi allestimenti, silver, gold, tutti i colori che desiderate, solo all'LDCar, a partire da 99 euro al mese. Non ci credete? Qui all'LDCar, anche le 500 Abarth, sono in pronta consegna. Ammiratela, splendida, con fari all'oxeno, cerchi da 17, vostra a partire, solamente da 219 euro al mese. Qui dall'LDCar Torino, trattiamo tutti i marchi. Introvabile Suzuki, in pronta consegna, la nuova S-Cross Hybrid. Tua a partire da 249 euro al mese. Trovate anche qui dall'LDCar le introvabili, in pronta consegna, Volkswagen T-Cross, tua a partire da 199 euro al mese. Non mancano le Golf da LDCar, tante, tutte quelle che desiderate, i colori che preferite, sono qui da LDCar in strada 7344A a Torino, a partire da 320 euro al mese. Sono rimasti qui dall'LDCar gli ultimi pezzi di Fiat 500X Sport, le ultime benzina, diesel, in tre giorni per averla. Non mancano le alternative al nuovo da LDCar, per esempio una ricca gamma di SUV dei colori e dei brand che preferite. Jeep Renegade 1.4 GPL del 2017 a 20.900 euro, in ottime condizioni. Oppure Volkswagen Tiguan, crossover, allestimento R-Line, full optional del 2018, tua da 27,9. Appetibile Fiat 500X 2000 Multijet, 140 CV 4x4 Cross del 2016, attenzione, attenzione, 19.900 euro. Introvabile nel mercato dell'usato, Ford Puma in pronta consegna, ST-Line come versione, bellissima, tua a partire da 229 euro al mese. È introvabile anche questa Alfa Romeo Giulia 2002 Turbo Diesel 150 CV Super con cambio manuale del 2017 a 23.900 euro. E qui dall'LDCar Torino a 298 euro al mese trovate la nuova classe A 220 Automatic Benzina Sport. Usato freschissimo qui dall'LDCar Torino, Volkswagen Polo in pronta consegna, tuo a 129 euro al mese. Volete una macchina spaziosa per la famiglia? Questa Mercedes classe B col pacchetto AMG Premium B 180 Diesel del 2016 a 19.500 euro. Per ovvie ragioni di tempo non possiamo mostrare tutto, però il prodotto c'è. Oltre 300 autovetture multimarche in pronta consegna a disposizione per voi. Venite a vederle, a provarle e soprattutto ad acquistarle. E naturalmente oltre alla vendita auto ci sono tanti servizi che noi ricordiamo, Dennis. Assolutamente, servizi finanziari su misura per voi, assicurazioni e garanzia. Tutto questo e molto di più in strada settimo 344 a Torino. Naturalmente la concessionaria è aperta tutti i giorni, da lunedì al sabato, a vostra completa disposizione. Il volto ufficiale lo avete visto, è Dennis, ma naturalmente c'è tutto un team in grado di servirvi al meglio e di risolvere ogni vostra esigenza. Io ti saluto, ti ringrazio, ricordiamo il sito. Grazie mille a te. Il sito? www.ldcartorino.it E siamo anche sui social. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Grazie per l'attenzione e alla prossima.